La macchina organizzativa di Amici è al lavoro per confezionare la ventiduesima edizione del programma, News sul Cast. Dalla serie, non succede, ma se succede. La macchina organizzativa di Amici di Maria De Filippi è già al lavoro per confezionare la ventiduesima edizione del talent show più popolare d'Italia. Come ogni anno ci saranno delle novità riguardanti il cast dei professori e dei professionisti che collaborano al programma? L'ultima indiscrezione su due possibili «acquisti» da parte della trasmissione l'ha lanciata Nuovo TV. Ed è un'indiscrezione che ha già iniziato a fare parecchio rumore visto che i due nomi fatti trapelare sono di peso, come si suo dire trattasi di due pezzi da 90. Di chi si sta parlando? Dell'influencer più celebre d'Italia, Chiara Ferragni, e del musicista tutto tutine e quadri iconici, Achille Lauro. Nuovo TV, a proposito del possibile impegno con Amici da parte della moglie di Fedez e del cantante, spiega che, non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno. Secondo il magazine, quindi, Lauro e Ferragni avranno il ruolo di tutor. Non una novità assoluta. Già in passato Maria De Filippi era ricorsa a simili figure. Si ricordano, in tale ruolo, i cantanti Michele Bravi e Giovanni Caccamo. A proposito di Michele Bravi, diverse voci, mai smentite, hanno assicurato che l'artista sbocciato a X-Factor sarà una new entry nel cast dei Professor dovrebbe prendere il posto della speaker radiofonica Anna Pettinelli. Quasi nessun dubbio invece sulla riconferma dello, storico, Rudy Zervi e di Lorella Cuccarini. Quest'ultima, in una recente intervista, ha reso noto di aver parlato con Maria De Filippi e che la sua presenza nel programma non è in discussione, ci sarà anche nella ventiduesima edizione. Altra conferma scontata è quella che riguarda il danzatore Raimondo Todaro. Voluto fortemente da Maria lo scorso anno, l'ex volto di Ballando con le stelle ha convinto tutti ed ha fatto parecchio divertire. Memorabili i suoi scontro con Alessandra Celentano, altra insegnante che ha già in tasca la riconferma per la prossima stagione dello show. Da decidere invece il futuro di Veronica Peparini, non è detto che la coreografa troverà di nuovo spazio tra i prof. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!